Ciao spettatore, attenzione! Questo video è la versione compatta e per così dire veri funni Quindi divertente e desilarante Di una seduta ben più lunga In cui abbiamo analizzato anche scelte di character design, environment design, game design Di questo gioco affascinante Se vuoi vedere la versione intera puoi andare sul canale Twitch Electric Peo Questo è tutto, accendi la campanellina, iscriviti e buona visione Ma si mi raccomando accendi sta campanellina Quanto siete belli! Quanto siete belli! Ehi Laura è un vero uomo No tua sorella Giasbi Nuova partita porca cazzozza Favamo un po' sta nuova partita Sono tutto emozionato come un bambino scemo Aio! Uh! Prosegue un attacco bastardo eh Proprio la puntina sul piede Il braccio ce l'abbiamo ancora Non l'abbiamo ancora perso Grande, quindi vuol dire che lo perderemo durante la storyline E la cosa mi piace Mi sto scrivendo cose ci credete? Sto risucchiando l'anima del vento Porca cazzozza Non voglio essere scoperto sinceramente Infatti passo di qua Wow Ma c'è una signorina Oh mi dai una spada Uh! F*** Che è b***a? Uh! Damn you son! How about that? Eh? Baciami i piedi ho detto Porca cazzozza Spegniti! Non puoi stare accesa in mia presenza Hai capito? Yes! F*** Ah ma non fai bro Ma è il parri Sta tutto nel parri Porca cazzozza Guarda come strisciano Eh? Chi è il tuo papà eh? Dimmelo Dì il mio nome Dì il mio nome Di che sono il tuo papi Chi è il tuo papi eh? Chi è il tuo papi? Comunque Vieni qua Chi è il tuo papi? Eh? Vieni qua Chi è il tuo papi? Wow Cosa? Ah! Uh! One shot Ma che stava? Ma scherzato? Cioè così Fai un errore La prendi sui denti È così che funziona Sekiro? Mi sa che è lui il mio papi Io sono una b***a S*** Ai 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 Uh! Yes! Ah yes! Win! Ti ti dirò un po' Chi è il suo papi? Eh? Mi hai ammazzato prima Sei stato il mio papi Ma per 5 minuti Perché poi papi è tornato Hai capito? Papi è tornato a casa Brutto zozzo Papi è tornato Papi Wow 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 I can't say shit I can't say shit Oh lo sapevo Damn you son Chi è il tuo papi? Lui è il mio papi Ah! Maledetto Innanzitutto c'ha lano coperto soltanto da un filo letteralmente Ma guardate ma guardate che scrotto gigante che è Oh what the fuck is that? Una cazzo di lucertola Cazzo di lucertola Wow Questa si che è una bella introduzione a un boss Se quello è un boss Guardate che bello Entri e lo vedi già in fondo Wow Quello non me l'ha spiegato come si scrivano Damn son Quello non me l'ha spiegato come si fa Qualunque cosa sia mi sa che il combattimento dovrà andare male Eccolo là Ciao braccio Braccio artificiale di uno shinobi Oh wow Wow Non ero pronto Wow Confetto di ungo O di ugo Ugo I nemici lasciano un bottino come oggetti e denaro Sì ma non me lo raccoglie il bottino Che cosa ho capito di male Oh mio dio Ah lo si assorbe Porca cazzozza Non è molto silenziosa come uccisione Perché vedo che gli altri vanno in allerta Muore uno e va in allerta Quindi non è un'uccisione così stelta Un'uccisione stelta tipo Oh sto uccidendo uno Porca cazzozza E tutti quanti si girano Che è successo? Hey bro Vieni in mezzo alle siepi con tuo papi Ehi 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 Ah a parte che mi scordo sempre di risucchiare le cose Un doggo ma io non voglio ammazzare i doghi Surprise b***h Surprise mada f***a Che film era? Surprise mada f***a Dove è l'altro doggo? Where is mister doggo? Who is that? Una cazzo di gallina gigante Ma che stava a scherzà? Wow Una cazzo di gallina gigante Ma che stava a scherzà? You wanna fight again? I will grant you three wishes Ah f***a Eh chi è il tuo papi eh? You like eating a** Skiaccia la campanella La campanella La campanella Konnicewa 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 Arigato Konnicewa 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 Arigato Konnicewa 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 Konnicewa